nome vincenzo cognome curcio nome d'arte cohen da dove vieni sono calabrese però vissuto a roma come si intitola il tuo libro pellegrini e pagani a roma chi lo ha pubblicato gruppo albatros il filo a quale genere appartiene diciamo saggio storico artistico descrivilo in tre parole mi reso conto sulla fenomenologia del passaggio tra il pagano il cristiano quanto tempo ha impiegato per scriverlo quattro anni qual è stata la parte più difficile da scrivere la parte più difficile è stata la revisione del testo mettere insieme il tutto cosa troveremo all'interno del libro troveremo una serie di informazioni storiche artistiche relative alla cristianità alla storia di roma diciamo l'evoluzione degli stili in merito appunto diciamo sia alla sfera cristiana che quella pagana descrivi te stesso in tre parole creativo complesso ed eclettico sai disegnare si sai cucinare molto bene qual è il tuo cavallo di battaglia la torta di mele ai 10 secondi per esprimere tre desideri realizzare tutti i miei progetti artistici e letterari trovare un modo di comunicare con gli altri quindi riuscire ad arrivare agli altri nel miglior modo possibile e trovare la mia felicità interiore mandiamo un saluto a tutti i nostri ascoltatori grazie di averci seguito e mi raccomando leggete questo libro pellegrini e pagani perché troverete delle degli aneddoti molto interessanti relativi alla storia di roma